buongiorno a tutti ragazzi fuori inizia a fare freddo ma noi ci scaldiamo con la poesia la buona e sana poesia di michela di gregorio zitella ossacave ragazzi cercate questo libro perché vi sorprenderà michela è una scrittrice giovanissima di raiano un paesino in provincia dell'aquila ma è grande dentro e quando una persona è immensa nel cuore non può che scrivere cose eccezionali oltre a bellissime poesie ci sono anche dei racconti che chiudono il libro è come se chiudesse un cerchio di emozioni che gentilmente lei ci offre e ci regala in questo libro ossacave michela di gregorio zitella cercatelo perché non vi lascerà sicuramente l'anima asciutta di emozioni noi ci vediamo domani mattina per un altro libro un'altra pillola e mi raccomando condividete perché la condivisione crea occasioni sempre ciao ragazzi